Si ferma a 7 la serie positiva di Cestistica o Stuni nel campionato di Cigol Pugliese di Palacanestro maschile. Troppo forte almeno in questo girone d'andata Palacanestro lupa Lecce che al Palaventura si aggiudica l'incrucio al vertice per 75 a 70. La squadra di coach di Salvatore difende il titolo di campione d'inverno con uno strappo decisivo nel terzo periodo solo parzialmente rintuzzato dalla buona vena di Leo, top scorer con 24 punti e Walker 21 fra i giallorossi. In evidenza Vranjovic con 18 punti, Mokavero e Salamina con 15. In scie della capolista resta Monopoli che regola Cusionico Taranto per 82-72 mettendo la testa avanti sin dalle prime battute. 21 punti per Bosniak per la squadra di Ambrico, altrettanti per Giovara in quella di Caricasole. Tarantini sempre quarti a 12 ma ora braccati da un poker di avversarie. Fra queste precedenza nuova Palacanestro Ceglie che suggella la trasferta di Vieste con uno scoppiettante 103-94 con ben 10 giocatori in doppia cifra su entrambi i fronti. I più prolifici Samia con 28 punti e Sorrentino con 23 per i Garganici, Sabekis con 22 Kvetanovic e Beccari con 20 per i gialloblu. Fra i successi casalinghi la forbice più ampia è a Francavilla dove i padroni di casa vanno in fuga contro Mola già nel secondo periodo ed allungano fino all'89-71 finale. Più complicate le vittorie di Libertas, Altamura e Talos Rubo. I ragazzi di Cotrufo battono nuova Palacanestro Monteroni per 75-72 rimontando lo svantaggio iniziale con la buona vena di De Bartolo e Rei Prado 40 punti in due. Matura addirittura nel finale il successo della squadra di Coach Patella con Valentino Castellaneta per 90-86. Ionici per lunghi tratti in vantaggio grazie a un Petra Itis da 32 punti e un Angelini da 26 eguagliato dalla Quintana fra i locali. Alla ripresa del campionato nel 2019 si riparte da Lecce Tanto e Ostuniceglie.